Casa Gioiosa Casa Gioiosa è un'iniziativa molto positiva sia per il territorio sia per la Chiesa perché a Casa Gioiosa vengono i ragazzi, passano un periodo di ferie, passano un campo scuola ma anche perché il territorio facendo girare le persone è un territorio che vive ed evita lo spopolamento rischio grosso in conseguenza del terremoto il grande ringraziamento va alla Fondazione Carisab che ci ha dato la possibilità di intervenire e di mettere in sicurezza la casa, di offrire un servizio molto migliore e questo certamente è una cosa molto lodevole di cui sono molto grato sia alla Carisab sia a Don Luca Rammella che ci ha dato molto da fare perché le opere potessero essere realizzate